Per la grande rivincita di domenica contro il Mantua, il tecnico del Perugia Fabio Caserta potrebbe ritrovare due importanti pedine, vale a dire Carlo Crialese e Jacopo Murano. Sia il laterale difensivo che l'attaccante hanno infatti preso parte alla seduta di allenamento di ieri. Se per Crialese la convocazione sembra scontata, non lo è invece per Murano, che sta sì recuperando in tempi record, ma si potrebbe scegliere la strada della cautela. Anche perché nel reparto avanzato dovrebbe tornare a disposizione anche Federico Melchiorri, che sta continuando a lavorare con il preparatore atletico per ritrovare la forma migliore. Proseguono invece il lavoro differenziato Monaco e Rosi, entrambi in dubbio per la partita del Curi contro il Mantua. La formazione guidata da Truise arriverà a Perugia dopo una settimana molto intensa, visto che sarà impegnata domani alle 17.30 in casa contro il Padova, dopo il LKO incassato lunedì sera a Carpi, che ha interrotto una striscia positiva che durava da tre partite. All'andata il grifo toccò il fondo, perdendo 5-1, ma quella fu paradossalmente la gara della svolta della stagione di Biancorossi di Caserta. Quella di domenica dovrà essere invece la partita della continuità. Intanto alcuni tifosi hanno voluto rivolgere alla squadra il proprio apprezzamento per il rotondo successo nel derby contro l'Arezzo. Uno striscione di ringraziamento è stato infatti appeso sui cancelli della Curva Nord, segno tangibile di una fiducia ritrovata nei confronti dei ragazzi di Caserta.